Siamo in compagnia di Micol Di Segni, campionessa mondiale IMAF e AFL. Com'è stata questa giornata, anzi questo pomeriggio tarantino con tanti allievi, anche agonisti? Mi fa molto piacere trovarmi in una location così, vedere tanti partecipanti, tanti appassionati a questo sport. Per me è sempre un'emozione avere l'opportunità di venire a insegnare e trasmettere un po' della mia passione per questo sport. Nell'immaginario collettivo è uno sport più al maschile, invece tu Micol? Quando ho iniziato ero sola in palestra, per tanti anni sono stata sola e mi sono trovata a viaggiare in tutto il mondo per avere delle sparring partner donne. Adesso mi sto attivamente impegnando per espandere il movimento delle MMA femminili, ho organizzato insieme al mio coach Lorenzo Borgomeo un paio di giorni solo per le donne, di allenamenti solo al femminile per quest'estate durante il summer camp del team Aurora e spero di avere occasione di organizzare sempre più appuntamenti al femminile. Utilizzerò anche questa intervista per invitare tutte le donne che abbiano piacere di allenarsi in questo bellissimo sport, a raggiungermi a Roma e allenarsi con me. Non volendo hai anticipato la mia ultima domanda, ecco uno spot per invitare le donne ad allenarsi a chi può essere adatto anche perché credo che serva anche ad acquistare una certa sicurezza in se stessi. A me questo sport ha dato tanto, mi ha dato molto a livello di sicurezza e a livello di consapevolezza e mi ha fatto essere molto orgogliosa di me. Quindi non solo per un discorso di autodifesa, non solo per un discorso di sopravvivenza, ma proprio per un discorso di passione e autoaffermazione. Invito tutte le donne a provare questo sport, non è vero che vi rompono il naso alla prima lezione, testerete lo stesso carine e anzi avrete quel pizzico di grinta in più che non fa mai male.